amiche e amici bianconeri buonasera e bentrovati siamo nel post partita juventus porto per il consueto commento analisi della consentitemi di dire fallimento europeo della juventus in champions league prima di cominciare però come sempre vi invito ad iscrivervi al mio canale youtube mantenendo attiva la campanella delle notifiche e se vorrete mi raccomando non dimenticate l'importante like in fondo alla puntata dicevo fallimento europeo è una parola forte lo so a caldo tante volte si eccede si esagera si dicono frasi che poi il giorno dopo le rivedi in maniera differente però consentitemi questo termine che è pesante lo riconosco ma la juventus che dall'urna aveva pescato probabilmente l'avversario più abbordabile e con tutto il rispetto per un porto che si è rivelato un avversario duro difficile ben organizzato ben messo in campo da sergio con sei sao per quelle che sono le qualità che quella squadra può esprimere se l'è giocata come meglio non poteva ma la juventus ha fallito la gara di andata giocandone soltanto giocando soltanto 10 minuti su 90 e tenendo viva la possibilità di qualificazione grazie alla rete sul finale di federico chiesa e poi mancando clamorosamente la prima frazione di gioco di questa sera juventus tradita dal suo uomo più rappresentativo da colui che era stato acquistato per fare quello step di crescita che si era avviato con il periodo allegriano raggiungendo due volte la finale di champions e con l'arrivo di cristiano ronaldo si pensava probabilmente di poter aggiungere pericolosità competitività in una competizione che purtroppo troppe volte la juventus è arrivata lì ad un soffio dal vincerla ma poi per un non nulla ha mancato l'impresa e questa sera è sicuramente la faccia buia di questa juventus è quella di cristiano ronaldo che è risultato assente ingiustificato per praticamente tutto il match match che è durato ricordiamolo 120 minuti ma cosa più grave che lo ritengo particolarmente responsabile rivedrò le immagini cercherò di capire ma così a caldo lo ritengo particolarmente responsabile del gol che ha sancito l'eliminazione al cento quindicesimo minuto quindi del secondo tempo supplementare perché non è concepibile che una barriera disposta al limite dell'area sia salti girandosi ho visto sia morata sia cristiano ronaldo completamente saltare e girarsi soprattutto rinaldo ronaldo con un atteggiamento che ovviamente non è così adesso non voglio dire non gli fanno onore perché non non voglio entrare in certi giudizi che vanno oltre quello che ho visto ovvero comunque una responsabilità forte di un giocatore che avrebbe dovuto dare quel surplus alla squadra e che invece questa sera anche per difficoltà dei compagni nel servirlo sicuramente non vogliamo escludere responsabilità di altri perché la verità sta sempre bene o male nel mezzo però certamente questa sera il grande assente il grande responsabile è quello è il nome porta il nome di cristiano ronaldo detto questo dispiace perché la juventus dopo un primo tempo ripeto regalato per l'ennesima volta per non aver disputato una prova da juventus aveva sfoderato una ripresa da da grandissima squadra una ripresa davvero eccellente raggiungendo con un doppio federico chiesa il diciamo pareggio nel computo delle idee dei gol e sfiorando ripetutamente anche la possibilità di pervenire alla terza marcatura che sarebbe valsa la qualificazione diretta ai quarti di finale così non è stato e cosa che fa scalpore lo è ancora di più nel momento in cui la juventus ha avuto la possibilità di giocare 35 minuti dei tempi regolamentari più 30 minuti dei supplementari in superiorità numerica per una ingenuità commessa dal giocatore taremi che si è fatto espellere beccando due cartellini gialli nel giro di due minuti ed erano i minuti 54 e 56 del secondo tempo dispiace perché sicuramente ci sono giocatori che avrebbero meritato il passaggio del turno che hanno buttato il cuore oltre all'ostacolo e lo hanno fatto con una prestazione davvero straordinaria mi riferisco in special modo a quadrado autore veramente di una grandissima prestazione se poi si pensa che era fondamentalmente a rientro da un infortunio appena quattro giorni fa e federico chiesa giocatore che se manterrà una certa umiltà una certa voglia di migliorarsi giorno dopo giorno diventerà sicuramente un giocatore che farà la storia del club e non solo detto questo ho trovato molto positiva anche la prestazione di arthur anche egli tornava fondamentalmente da un infortunio e si è diciamo reso disponibile per tutti i 90 minuti regolamentari disputando un secondo tempo veramente di ottimo livello dispiace perché la juventus aveva nelle corde certamente la possibilità di superare questo porto che ripeto ben organizzato e ben messo in campo da con sei sao che ha fatto vedere anche un nuovo modulo il 6 3 1 in per larga parte del primo tempo dopo aver raggiunto il vantaggio con sergio olivera su calcio di rigore e però la juventus era stata brava a raddrizzare una situazione che si era messa male juventus però che al netto di tutti gli errori cui per sé veramente imbarazzante da un punto di vista dell'arbitraggio per la gestione dei cartellini nel nello specifico non può appellarsi a null'altro che a se stessa la juventus deve fare una grande mea culpa deve capire dentro di sé perché approccia le partite in una certa maniera e soltanto successivamente e comunque non sempre è in grado di mostrare il suo vero volto è vero che svegliamo da nove anni di vittorie nove anni che sicuramente sono un'eternità un qualcosa che probabilmente tanti dei tifosi juventini ancora non si rendono conto e pensano che la champions sia una cosa il campionato sia un altro verissimo sono due competizioni completamente differenti ma la juventus viene comunque da un ciclo di nove anni di successi è inevitabile che arrivi il momento in cui ci debba essere una sorta di ricambio e un momento in cui la squadra probabilmente arriverà a non vincere questo potrebbe essere l'anno non parlo di anno di transizione perché nella scelta fatta compirlo la juventus è ben sapendo delle difficoltà non ha mai pensato potesse essere un anno di transizione perché la juventus fa in campo per vincere sempre qualsiasi competizione e quindi con tutte le difficoltà la juventus comunque sapeva e pensava che anche quest'anno avrebbe potuto conquistare dei dei trofei in campionato è ancora tutto aperto nonostante il divario continui a rimanere inalterato e piuttosto cospicuo e sempre meno giornate al termine del campionato però come sempre vi racconto come sempre ci diciamo è giusto il discorso fino alla fine crederci fino alla fine è chiaro che per quanto riguarda invece il discorso champions quello step di crescita che si era cercato di fare diciamo post anni allegri che di allegri che aveva portato la juventus due volte in finale con l'acquisto di cristiano arnaldo questo non è avvenuto e a questo punto la juve è bene che si rimbocchi le maniche faccia un veramente una sana riflessione sul sull'immediato futuro pensando soprattutto a guadagnarsi un posto champions per la prossima stagione perché già l'eliminazione agli ottavi di finale costa le case del club almeno 10,5 milioni di euro non poco in momento di pandemia in momento in cui non ci sono grandi introiti soprattutto mancano i grandi introiti da stadio e quindi la juventus è bene che adesso a testa bassa torni con umiltà a pensare di tornare grande perché oggi la juventus quella che avevamo conosciuto che andava sui campi d'europa facendo paura è un pochino venuta a mancare rimboccarsi le maniche lavorare ci sarà tempo per tornare grandi ma oggi c'è una grande delusione che si chiama eliminazione agli ottavi di finale di champions league ad opera del porto di sergio conseil sao che merita comunque i complimenti per il passaggio del turno lasciatemi i vostri commenti qui sotto ragazzi so che saranno commenti di delusione commenti di probabilmente anche insulti rivolti alla dirigenza rivolti all'allenatore perché tanto conosco un pochino il tifoso bianconero e quindi so che nei momenti di difficoltà viene fuori quella rabbia quella forse quel tanto amore quell'attaccamento che ci porta a dire cose che forse in fondo non pensiamo veramente detto questo se sarà possibile cercherò come sempre ho fatto di rispondere io vi auguro un buon proseguimento di serata una buona notte sempre forza juve e speriamo di tornare presto a raccontarci i prossimi successi ciao a tutti iscrivetevi al mio canale youtube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao